Allora Maria Grazia, cosa mi racconti di bello? Ieri sera abbiamo fatto una bella festa, io e mio marito hanno invitato tutti i suoi amici. Sì? Abbiamo mangiato, bevuto e ballato. Insomma vi siete divertiti? Tantissimo. Mi fa piacere. Sì, però alla fine di questa festa è successa una cosa. Cosa? Cosa? Gli amici di mio marito hanno approfittato di me. Oh ma che dici? E tu cosa hai detto a tuo marito? Ho detto quando la rifacciamo un'altra festa.